E' la mostra d'antiquariato più antica d'Italia. Quest'anno è giunta la sua 53esima edizione. E' Cortona Antiquaria, la mostra che farà immergere sino al 3 settembre, grazie a 34 espositori provenienti da tutta Italia, ma non solo, l'intera città in un'atmosfera d'altri secoli. Il percorso espositivo si snoda attraverso le storiche sale di Palazzo Vagnotti, gioiello settecentesco dell'architettura cortonese. Noi ci siamo impegnati tanto per portare a Cortona degli ottimi antiquari, selezionatissimi, di comprovata serietà sia professionale che come qualità di oggetti. Quindi io spero che i visitatori vengano numerosi perché è una mostra non solo a carattere mercantile, ma importante anche dal punto di vista culturale. L'Italia è un paese che vive sul turismo e sulla cultura e noi crediamo nel nostro piccolo di contribuire anche noi a questo tema che è importante per il nostro paese. Quali sono le peculiarità di questa edizione? Quest'anno forse vedo un po' dalla scelta degli antiquari, dei colleghi, che si sono indirizzati molto di più verso gli oggetti d'arte, i quadri, i dipinti e le sculture. Un pochino meno, forse un pochino più a discapito, dei mobili. Nonostante questo ci sono, voi potrete vederli, nel pian terreno c'è un antiquario veneto, ha portato un bellissimo trummo veneziano. Veneziano, al secondo piano c'è un antiquario di Milano, ha portato una coppia di bureau lombardi del Settecento strepitosi. Quindi ci sono dei mobili ma anche lì sempre cose di qualità.